Udarni Cardani, chiamo Pardani, Paola Zabra a basso, Piero Marras a chitarra e Luna Dragonieri alla voce. Grazie a tutti, grazie di essere qui e volevo ringraziare su tutti due persone che hanno voluto fortemente Mattia Bazzar qua, Alessandro Honorato e Sergei Kotenev, che ci sono stati una realtà che vive da più di 40 anni. E è un piacere aggiungere alle tante cose belle, vissute in questi 40 anni, anche questa esperienza di oggi. Grazie a tutti e buona vita!